Lui è Dallas, è qui da sei mesi, è un bellissimo segugio, molto dolce, un po' timido. Dallas è stato trovato molto spaventato, girava nelle campagne di Gavi, era molto magro, molto emacciato. Dallas è adesso un cagnolino adorabile, quindi chiamate Dallas se volete adottarlo. La vita, se hai paura del buio, tranquilla facciamo mattina, e se ogni parola sbagliata finisse nel fiume, è presente in un paio di anni come sarà il mare. Ma avete visto che musone Dallas e poi che fello meraviglioso, sembra di velluto. E allora insieme diamo una casa al nostro Dallas, telefonando subito a Novi Ligure al 333 1078853. Oppure, come sempre, potete scrivere a portamiacasa, chioccioladallapartedeglianimali.it e così anche il nostro Dallas diventerà un cagnone meraviglioso da divano.